La disoccupazione giovanile si batte in classe e questo è il messaggio lanciato per la tredicesima edizione da Orienta Sud, il salone delle opportunità che alla stazione marittima offre agli studenti delle scuole campane la possibilità di interagire con le facoltà universitarie. Tre giorni con 10.000 presenze, 80 espositori provenienti da tutta Italia e 200 relatori dei maggiori atenei della nazione. La situazione lavorativa ancora più precaria nel mezzogiorno a seguito della crisi può essere migliorata mediante una corretta scelta da parte dello studente del corso universitario a cui accedere, soprattutto per coloro che non hanno ancora compreso appieno le proprie attitudini e con i dati provenienti soprattutto dalle regioni settentrionali che indicano una maggiore opportunità di lavoro immediato per coloro che non seguono l'iter universitario, ma gli studenti di Napoli e dintorni sembrano ancora credere nelle speranze di una formazione culturale completa. Non mi riesco a immaginare all'università, però c'è una cosa fondamentale, quindi si deve fare. Secondo me la mia città non offre grandi possibilità a chi ha voglia di studiare, per cui penso di andare più lontano, di spostarmi. La situazione di oggi non è semplice, però noi ci proviamo studiando nella speranza di trovare un domani un lavoro ipotetico, chiaramente. Noi ragazzi dobbiamo avere la forza di andare avanti, di studiare, di comunque crearci un futuro nostro, tramite, attraverso lo studio possiamo farcela. A me l'università è realmente importante, si deve fare solamente se si vuole, se si ha cultura, se ha vera cultura e non si hanno tipo raccomandazioni. Già in questo periodo di crisi cerchiamo comunque sia di dare una manifestazione importante, ci crediamo in una svolta, cerchiamo sempre di migliorarci.